Weekend di controlli sul litorale di Capaccio Pestum ad opera della Polizia Municipale. Gli agenti agli ordini dei responsabili del servizio di Polizia Municipale Natale e Carrotenuto hanno sequestrato merce contraffatta a diversi venditori ambulanti sul litorale della Laura ed hanno elevato sanzioni per 20.000 euro. I caschi bianchi hanno sequestrato circa 300 gonfiabili e oggettistica di varia natura. Inoltre è stato emesso un provvedimento di daspo urbano. I controlli proseguiranno così come è disposto dall'amministrazione comunale di Capaccio Pestum anche nei prossimi fine settimana per scongiurare e reprimere tale fenomeno.